Ma l'hai dato, psicologia cognitiva? Non c'è avuto tempo di studiare, ma dove è il prossimo appello? Il prossimo appello? Questa l'ho già sentita. Contenta te. Cazzo, sono finite. Cazzo, sono finite. Pronto? Francesca? Sì. Sono l'ispettore Coliandro. Chi? Non so se ti ricordi, il Campo Nomadi. Sono il collega di... Guarda, ma hai tradotto pure quelle cose che mi ha detto quel tizio là? Ah sì, certo. Quello a cui mi hanno dato del coglione, no? A parte che non eri sicuro, altrimenti sarebbe stato vilipendio. Comunque. Scusa, chi ti ha dato il mio numero? No, me l'ha dato Gamberini perché secondo lui lascia stare. Senti, è un'emergenza.